Buongiorno a tutti, io sono in Gothenburg, in la parte vetture della città e io vorrei promenarmi un po' per mostrare cosa che io vedo, è una buona cosa che è una strada pedonale, sin automobili, ma io ho alcuni bicicletti che corrono molto velocemente, pericolosamente. Questo è un ristorante che riguarda l'architettura. Io di fatto non ho una destinazione, non posso mostrare strada, un'altra strada e un'altra ancora. Io devo trovare una torre antica, una fortificazione medievale. Questo deve essere in questa area del città, ma io non sape bene e io non ho una connessione con internet mobile per consultare le mappe in linea, ma io ho prendito un screenshot, una schermata di Google Maps quando io avevo la connessione, prima che io sortiva dal mio hotel. e allora probabilmente io non vado a perdermi un infante. Io vorrei in questa direzione. Oh no, no, questa strada è più interessante. Questa è un'altra strada. Guarda questa bicicletta anziana. E le quadri. Io non potrei traduzere lo che scrivete sulle botteche, perché io non comprendo svedese. un'altra botteca di souvenir probabilmente. Io amo molto queste casas. Io vedo un parco. E io volevo evadere là. Io vedo il Halle Turre. Io vedo l'etecto. Allora io devo fare un parve, come dire, escalata sulle colle. e allora io credo io potrei interromper questa registrazione. E va a riprendere quando io sia più prossima al Torre. Ciao ciao. Alicum secundas. Io ho completato la lunga escalata. E io sono presto a mostrare a voi le torre. E lo è più bello di un'altra latere. che io vorrei mostrare a voi. E anche io vorrei mostrare a voi le panorama. Ma senza parlare perché il ha un vento abbastante forte. e io vorrei non direi quello che io ho detto. Io lo mostrare a voi. Io non scende un poco. In questo lato del Torre il quasi non ha vento. Allora io potrei parlare. perché io ho un niquil interessante a dirvi. Io vorrei solo mostrare a voi le torre di questo lato. Questo è più impressionante. Io non è altissimo. Io ho trovato tre etaggi. Ma ogni etaggio è abbastante alto. Tres o quattro metri. Io credo. E io potrei vedere che le muri sono molto spise. Un metro e medio. Forse due metri anche. E il panorama di questa parte. E le cannone. Che è questa cosa? Io non lo so. Vos probabilmente potete audire le campane. Io ho due ecclesi che sono campane. Ah, questo è solamente un lume. E le cannone. A presto. A presto. A presto. A presto. Un corone. Un corone. di Auro, questo è chiaramente autentico. Io vi lasso, infortunatamente le tempore non è tanto bello, è l'espere non. Io guardavo anche le previsioni del tempore, però il Dias Veniente e non ha grandi cambiamenti. Io ho deciso di registrare oggi, mentre non è solo. Questo è il mondo dei successi. Ah, voi non potete vedere la scala di questa parte, ma non lo so. Buongiorno a tutti, ciao ciao di Svedia, Göteborg.